mi rimane attaccato più la parte positiva se ci penso in tanti anzi ci sono degli investitori che a un certo punto si erano premurati di scrivere un documento di 15 pagine per spiegarci tutti i motivi per cui non avevano investito noi non potevamo avere successo non l'abbiamo mai letto quel documento BSMT Basement Bella raga, nuovo appuntamento nuovo Passa dal Basement ci siamo, bentornati, ciao io sono Gianluca Gazzoli se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale e se state continuando ad ascoltarci su Spotify bravi, continuate a farlo anche lì c'è anche il video, potete fare quello che vi pare se vi va attivate anche la campanella pure lì non vi perdete e non vi perderete assolutamente nulla tipo la puntata, tipo l'incontro che stiamo per fare dal Basement stanno passando tanti amici e in tante occasioni ci raccontano storie di ispirazione belle mi fa piacere perché siamo sempre di più e sempre di più siete appassionati a queste storie e spesso anche quando parlano di argomenti che ad esempio io per primo non conosco nella totalità ma di cui sono incredibilmente affascinato e oggi è proprio quel caso lì e allora dal Basement è passato Alberto Dalmasso ciao questo è il pubblico è il tuo pubblico sapevi di avere un pubblico Alberto di così tante persone è di solito non lo vedo ma lo immagino bel Basement ti piace? sì allora io sono molto contento che tu sia qui oggi perché uno perché è un tema che ancora non mi è capitato di affrontare qui al Basement con gli amici che sono venuti a trovarci ed è un tema incredibilmente attuale sia la tua storia che il tuo lavoro che le cose di cui tu ti occupi e sia perché appunto credo possa essere davvero una grande storia di ispirazione per chi ci ascolta anche perché questo è non so ancora come intitolare la puntata però sicuramente ci metterò la parola unicorno perché è una parola bellissima che ho scoperto in realtà grazie a una serie tv da qualche anno essere una parola utilizzata nel mondo insomma del business e ho scoperto invece da un po' di tempo che quella parola è accostata a una realtà italiana che si chiama Satispay che è una la realtà di cui tu sei co-founder founder su LinkedIn cosa c'è scritto? sai che ormai è tutto il tuo ruolo su LinkedIn che cos'è? founder and CEO che è una cosa che figo però founder and CEO ma ci abbiamo messo un po' mi ricordo proprio l'altro giorno che LinkedIn mi ha ricordato che erano dieci anni ok che avevo iniziato in Satispay quindi che avevamo fondato Satispay mi sono ricordato che c'eravamo fatti i biglietti da visita io e Dario sì e c'era lui è founder e CTO e io CEO e c'eravamo io mi ero messo solo tipo responsabile marketing and finance ok e lui IT and operation perché non ci sembrava il caso di dire CEO CEO di cosa di noi due ci abbiamo messo un annetto e mezzo poi gli investitori dicono sì ma con chi sto parlando no no siamo i fondatori allora scrivetelo scrivetelo su però penso che sia un po' lo step giusto cioè non non prendersi troppo sul serio beh sì quello sì sicuramente ho notato essere una grande diciamo la virtù dei più grandi poi questa qui alla fine quelli che si prendono tanto sul serio ho notato essere quelli che poi alla fine di fatto in realtà boh qualcosina qualche mancanza anno poi è ma sai bene o male parlando dell'unicorno che hai citato cosa che ci siamo resi conto poi una volta avendo la raggiunta dell'entusiasmo che crea colleghi amici chiunque c'è a raccontare effettivamente concretizzare con una valutazione di un miliardo di euro della tua azienda però riporta di nuovo secondo me un atteggiamento per quanto ti puoi prendere sul serio secondo me è pericoloso proprio perché diciamo che ci deve andare bene un po' in generale nella vita e se hai il privilegio di essere parte di una cosa così grande è abbastanza facile essere un po' umili cioè se capita che ti si alleni in linea tutti i pianeti che hai un amico con cui riesci a lavorare bene che intravedi un'opportunità di mercato gigantesca e riesci un po' a partire a farla funzionare potrai avere dei meriti ma al di là dei meriti è talmente grande quello che puoi realizzare che l'ego tuo individuale passa in secondo piano altrimenti poi ti perdi sempre a cercare di far vedere che sai già tutto che l'azienda sei tu è personalizzata su di te mentre invece se riconosci costantemente ogni giorno quando inizi a lavorare che ciò che stai facendo è infinitamente più grande e ti poni nella condizione di dover alzare l'asticella studiare imparare ogni volta che incontri qualcuno invece di preoccuparti di fargli vedere quanto sai capisci cosa puoi imparare da quest'altra persona fai domande e continui continui a migliorare ok posso chiederti quanti anni hai sei del sono dell'ottantaquattro ok i trentotto vado per i trentanove io parto subito da questa cosa però poi ci arriviamo per gradi perché io ho citato appunto la parola unicorno che cosa vuol dire che Satispay è diventata un unicorno beh vuol dire che nell'ultima operazione di investimento che abbiamo fatto i soci che hanno investito in Satispay hanno pagato per ogni singola azione che hanno acquistato l'equivalente di un miliardo quindi se tu sommi tutte le azioni che abbiamo come fossimo quotati valiamo un po' più di un miliardo di euro quindi l'ultima operazione sono stati investiti in Satispay 320 milioni di euro gran parte in aumento di capitale quindi soldi che sono entrati nei nostri conti per poter spendere per assumere crescere investire fare marketing e quindi quella somma per poter comprare azioni Satispay ti dicono ok io investo e la valutazione della società a cui investo e compro azioni è un miliardo però questa cosa in Italia quante volte è successa nella storia è successa poche volte c'è Yux che poi è quotata e poi è stata acquisita penso vicino ai 5 miliardi di euro di valore da un altro gruppo e a livello di start up tecnologiche è una cosa rara cioè è stato un po' un periodo positivo mi pare che poco prima sia successo Scala Pay poi è una realtà internazionale penso che forse la sede non è in Italia ma poco importa perché sono italiani e fanno tanto business qua e sono anche stati devo dire di ispirazione per noi ci siamo sentiti un po' da soli come Fintech per tanti anni e quindi puoi vedere che arrivano altri che fanno qualcosa più o meno nel tuo ambito e riescono a raccogliere e avere buone valutazioni è positivo perché poi attira l'attenzione sul paese Italia anche perché questa è una storia dicevi prima che è partita dieci anni fa quella di Satisfay sì noi siamo partiti full time a gennaio 2013 cioè nel 2012 abbiamo faccio un passo indietro siamo andati a bomba facciamone ancora uno ancora più indietro perché non ho neanche detto cosa fa Satisfay no esatto facciamone proprio uno indietro perché da una parte io ho veramente una di quelle app che vedo praticamente sul telefono quasi almeno di tutte le persone che conosco nel senso che è entrata proprio nell'uso quotidiano perché il suo uso è quotidiano cioè Satisfay si occupa quantomeno di facilitare i nostri pagamenti quotidiani i pagamenti quotidiani cioè il poter andare quello adesso negli ultimi tempi in Italia si è dibattuto tantissimo su la carta sul pagamento con la carta per una cifra inferiore superiore eccetera eccetera Satisfay diciamo che di base ti dava la possibilità e ti dà la possibilità di velocizzare e risolvere risolvere un problema cioè nel 2012 c'è un momento in cui arriva un po' un flash nella mia mente io ho fatto economia poi ho iniziato a lavorare nell'ambito della finanza gestione investimenti però ero un po' intrigato dall'idea di provare a farmi un'azienda fare business per conto mio e avevo la fortuna di avere un po' di amici con cui ci aggiornavamo ogni tanto parlavamo di idee questo devo dire mi è capitato perché tra uno stage e l'altro dopo l'università mio fratello mi ha convinto a aiutarlo a fondare una piccolissima società che producesse energia da fonti rinnovabili la cosa era partita era andata bene ma il semplice fatto di avere un'azienda nostra aveva girato un po' la mia mente tra un sogno di diventare un grande manager a un sogno di creare qualcosa di grande di cui fossi perché tu fino a quel momento cosa sognavi cioè fino a quel momento tu cosa pensavi della tua vita? io ho avuto un percorso un po' particolare ho fatto geometri convinto di fare l'architetto poi mentre studiavo a geometri la materia economia estimo è passata dallo studio della storia della moneta della scuola economica e sono stato abbastanza travolto dall'entusiasmo di questa cosa e devo dire il professore è super severo ma bravo disse ai miei guardate che magari non è proprio architettura la sua via ho iniziato a incuriosirmi e ho fatto ho fatto economia poi non non ero così attento forse al percorso tradizionale società di consulenza investment banking e quant'altro più ero devo dire attento a fare sport a farmi la mia vita a passare gli esami con il minor numero di ore in aula possibile però soprattutto a lavorare ho fatto per due anni me ne sono andato un semestre prima negli stati uniti poi in australia a lavorare prima per aprire gelaterie negli stati uniti e poi nella camera di commercio italiana in australia cioè sei andato ad aprire gelaterie negli stati uniti si è una società di italiani basati a dallas in texas che avevano 7-8 gelaterie in quell'estate sono passati a 40 aprendo al modello franchising io ero lì in quel momento stash gratuito per carità ma bellissimo ho imparato un sacco l'anno dopo volevo andare a pechino ma non rientravano i mesi con gli esami e ho trovato un posto in camera di commercio italiana in australia e lì ho vissuto vabbè un paese pazzesco ho fatto un sacco di surf ho visto cosa vuol dire essere un'economia che cresce a doppia cifra tutto questo quindi tra i 20 e i 30 sostanzialmente hai 22 21 e 22 anni nei primi anni di università poi dopo la laura era uno o due anni dopo la crisi Lehman Brothers quindi un po' l'idea di andare magari in investment banking a Londra era saltata non c'era un'assunzione in quel momento e ho fatto un paio di stage è andato male non mi hanno confermato e mentre mi preparavo a iniziare il secondo nel mondo della finanza ma qua in Italia ho appunto creato questa società abbiamo fatto qualche impianto fotovoltaico ma al di là di quello quindi erano tutti i stage queste cose che facevi cioè erano comunque esperienze che tu andavi a fare quella del delle rinnovabili mio fratello mi disse lui ingegnere stava lavorando in Francia mi ha detto guarda che il costo dei pannelli è basso e l'incentivo è alto era il 2010 facciamo qualcosa e io non avevo un lavoro in quel momento sono andato a convincere qualche banca a finanziarci al 100% gli impianti a destinare parte del ricavato al pagamento delle rate e mi ricordo una settimana prima di iniziare poi quello che fu il mio primo vero lavoro dove sono rimasto quasi tre anni essere dal notaio fondare una società FAP ed SRL che sono le lettere delle persone della mia famiglia Francesco, Alberto, Pietro Emilio e Daniela Emilio e Daniela sono i miei genitori e Francesco e Pietro i miei fratelli ma un po' illuminato ho detto ok non devo per forza lavorare per qualcun altro forse posso anche trovare la mia via poi ero entusiasta di entrare in questa banca di investimento sono stato sono stato lì sono stato bene ma mi ronzava qualcosa in testa al di là di aiutare qualche amico a fare il business plan per chi stava facendo un'applicazione per allenarsi per la prima maratona o cose così abbastanza entusiasta mi buttavo aiutare molti e poi un giorno un amico mi fa ma perché nessuno fa un'app basata sul sul Bancomat e io stufo devo dire di non riuscire mai a pagarmi il caffè con carta o comunque di vedere nel momento del pagamento un disagio dico aspetta un attimo il Bancomat comunque non è che faccia fare salti di gioia al barista quando vuoi pagarti il caffè il dibattito era fortissimo ancora più forte di adesso poi avete visto si è scatenato l'inferno comunque però dieci anni fa cioè percepivi o ti dicevano proprio di no quasi dappertutto se volevi pagarti il caffè con carta detto forse è meglio pensare a qualcosa più in grande Bancomat è un circuito partecipato da tutte le banche italiane proviamo a capire se fare un sistema di pagamento che muove direttamente i soldi da conto corrente a conto corrente usando i bonifici europei poi da lì è partito tutto uno studio ho chiamato Dario che è il mio socio solo perché io con lui facevo alpinismo snowboard ci eravamo conosciuti perché lui era andato in Australia poco dopo di me quindi degli amici comuni ci avevano presentato perché gli dessi qualche suggerimento e lui era in Kazakistan che lavorava come consulente IT su un grandissimo progetto mi ha detto guarda io sto pensando a un sistema per inviare pagamenti via mail perché quando voglio fare donazioni questo lui stava già pensando a questa cosa ma me l'aveva detto circa un anno prima quando faccio donazioni a piccole no profit non hanno neanche paypal ti danno l'Iban devi copiarlo vorrei rendere semplice l'invio di denaro e si era messo un po' da solo a studiare sta cosa quindi poi quando io ho detto effettivamente è un problema che riesco dal mio smartphone a ricontattare gli amici dell'asilo che non vedo da vent'anni e non riesco a pagare e semplificarmi la vita in un gesto quotidiano sentiamo Dario vediamo cosa mi dice ho detto ma non è che ci sono dei bonifici europei qualcosa su cui riusciamo a creare un sistema che vada anche oltre l'Italia e semplicemente da Google scopriamo che da lì a due anni l'Europa avrebbe dismesso migliaia di formati diversi di addebiti e bonifici e creato uno standard che ti consentiva di addebitare e accreditare tutti i conti correnti in Europa abbiamo capito che l'ABI era il referente in Italia li abbiamo chiamati associazione bancaria italiana ci hanno detto chi siete? un istituto di pagamento cosa siete? abbiamo googolato istituto di pagamento ve la faccio breve nella sostanza da pochi anni puoi essere un intermediario finanziario che fa pagamenti senza aver bisogno di essere una banca quindi con un'organizzazione un po' più piccola capitali iniziali un po' più piccoli perché non fai credito quindi ti autorizzano solo per la parte di pagamenti e questo standard di addebiti bonifici vuole dire che con due messaggi IT potevamo addebitare e accreditare i conti di tutta Europa e quindi diciamo forse è il momento è il momento questa cosa ha aiutato sicuramente ha reso possibile l'idea nel giardino dei miei lui era in Kazaki stanno arrivando al telefono non ci facciamo guarda a sto punto sembra che tecnologia normativa siano allineate se ci sei io mi licenzio ci sono e quindi ci siamo licenziati poi gennaio 2013 siamo ci siamo messi full time su questa cosa pensando di lanciare il prodotto in tre mesi ci abbiamo messo due anni però intanto ci eravamo sopra dovevamo farla funzionare e l'abbiamo fatta funzionare ed eccoci qui a parlare dell'unicorno cioè però vedi poi come siamo solo all'inizio no no chiaro me lo auguro nel senso per voi ovviamente però è comunque una storia allora sto notando che questo è sempre di più un tema a cui la gente è interessata anche i ragazzi della nostra età anche molto più giovani vedo che sul web hanno un casino i temi legati alla finanza cioè tutte cose che magari qualche anno fa non erano considerate considerabili dei contenuti anche di intrattenimento cioè vedo che molti video a tanti amici che ho si occupano prettamente di quello quindi c'è un interesse e sono molto contento che tu sia qui perché poi questa è una storia concreta nel senso che poi online becchi un sacco di gente che ti racconta le favole poi io magari non sono così esperto da poterlo dire però quando vedo due o tre atteggiamenti due o tre cose due o tre nomi dico mi stai raccontando una roba che non esiste qua invece abbiamo un'esperienza reale e che soprattutto la dimostrazione è che ci vuole anche tanto tempo per fare le cose per quanto tu possa avere un'idea interessante bella eccetera non è che dall'oggi al domani si crea cioè hai messo due anni e passa a farla cioè avete messo due anni e passa a farla diventare reale a lanciarla e poi un bel po' per cercare di 10 per arrivare a dei risultati così anche perché Satispay è un network chiuso quindi non potendo dire metti qua la carta e paga dovunque la carta è accettata ma dovendo portare a bordo sia i negozianti che i consumatori è molto lunga all'inizio devi convincere ma come fai a convincere esatto quello cioè anche prima hai parlato di convincere nel senso che quello è un altro aspetto importante di chi fa questo mestiere e di chi ha una start up perché l'altro tema molto attuale è che non dico tutti ma tantissime persone stanno cercando di lanciare la propria start up hanno una start up è una parola strautilizzata che cos'è forse questo è il tema un po' anche più importante che cos'è la start up che cos'è una start up ma le start up sono diciamo sono progetti basati sulla tecnologia che attraverso investimenti di rischio definiti come venture capital diventano disruptive cercano di essere disruptive in una propria industria quindi chi dice ah ho fondato uno studio legale la mia start up no non è così per quanto sarà un gran bel business la start up è un qualcosa che diventa disruptive in un settore perché usa la tecnologia per cambiare le regole del gioco e mangiare quote di mercato più rapidamente poi le start up hanno c'è un forte centro di gravità intorno alla Silicon Valley e forse la testimonianza più importante che possiamo dare noi è l'essere stati in grado di fare qualcosa di minimo e di decente in Italia e secondo me quando tu dici ah si sentono tante cose che forse non sono così concrete si può fare riferimento a questo cioè la storia nostra secondo me si basa sul fatto che abbiamo capito da subito che non siamo in Silicon Valley che siamo in Italia che le regole del gioco erano diverse ma le opportunità erano tante e quindi non abbiamo fatto finta di essere in Silicon Valley non ci siamo fatti incubare da un incubatore non abbiamo preso soldi da Venture Capital abbiamo fatto i conti col fatto che siamo qua i Venture Capital sono pochi e piccoli gli incubatori che dovrebbero essere questi centri dove qualche super esperto ti aiuta a lanciare la tua azienda non possono esistere in Italia perché nessuno ha fatto grandi aziende tecnologiche quindi chi chi ti incuba chi ti aiuta in Italia più che incubare fanno un'altra cosa che è molto simile come parola ma non c'è la B diciamo che sì perché poi si fanno dare qualche quota perché poi dopo ti danno il commercio allora in Italia è tutto fattibile perché siamo un paese infine secondo me di entusiasti dove siamo il secondo paese al mondo per risparmio privato dopo il Giappone quindi di gente che ha capitale ce n'è tantissima proprio perché siamo portati a risparmiare molto e le grandi start up alla fine sono state finanziate da angel investor quindi privati che hanno capitale e che sono ben contenti di darti qualche centinaia di migliaia di euro a testa per aiutarti a lanciare la tua storia e ci sono altri angeli che sono avvocati commercialisti notai che vedono la tua iniziativa ci credono e ti danno una mano e ci mettono anche senza dirtelo poi non ti presentano una parcella per un paio d'anni e te la presentano quando tu la puoi pagare e tu dicevi raccontare raccontare è bello che si chiama angeli questa figura è l'angelo ma sono sono veramente gli angeli del mondo delle start up italiane non sicuramente i fondi per quanto riguarda tutta l'industria cioè parlo per noi ma in realtà parlo per tutta l'industria tu dici una prova importante raccontare raccontare convincere ed è proprio quello cioè la chiave da parte nostra è stata secondo me raccontarci tantissimo avevamo così tanta voglia di fare sta cosa che non ci siamo che ne parlavamo sempre e infatti il primo consiglio che do è di togliersi dalla testa la riservatezza ti chiedo un NDA e tutte queste cazzate qua scusate che fanno tanti perché hanno paura che questa idea venga rubata perché non sanno cosa vuol dire fare le cose e quindi quando tu parti hai bisogno di aiuto di entusiasmo di gente che ti segua e quindi più un qualcuno è capace e quindi in grado di aiutarti più probabilmente sta facendo qualcosa lui di valore e non è che può smettere di farlo perché c'è la tua idea certo e interrompe tutto ciò che sta facendo cioè immagina qualcuno a cui vai a chiedere una mano qualcuno che sa quello che fa è di successo quindi non è lì che non sa cosa fare delle sue giornate e quello che succede è che trovi qualcuno che ti diranno trovi tanti che ti diranno che non ha senso trovi qualcuno che ti dà una mano cioè chi ha più successo ti dice ok perfetto allora magari investo magari ti do ti dedico la mia consulenza e quant'altro quindi è raccontare raccontare così più la racconti più diventi bravo a raccontarla diventi bravo a trovare investitori si crea un passaparola diventi bravo a convincere gente a venire a lavorare per te per la tua idea più che altro e quando finalmente avrai un prodotto nel nostro caso dopo due anni da portare sul mercato magari sai anche cosa raccontare noi abbiamo capito che era più facile da raccontare agli esercenti perché questo mal di pancia verso le carte di credito ci ha facilitato e quindi abbiamo fatto tutto il sistema di cui vi raccontavo che metteva insieme i bonifici europei essere indipendenti dalle banche e ci ha permesso di dire Satispay lo può usare chiunque a un conto corrente gli esercenti non costa mai nulla sotto i 10 euro 20 centesimi fissi sopra i 10 euro e questo ha portato a rendere un po' più facile raccontarlo agli esercenti farsi dire di sì e poi tante lezioni abbiamo imparato che una volta che crei un nucleo di esercenti vicini nel centro città attivi puoi da lì far crescere i consumatori poi il passaparola davvero è tutto quello io tra l'altro qui ho in mano anche il tuo libro che si intitola Vivi Smart che credo insomma molti di questi concetti sono qui dentro parla sì è più una il tuo modo di vedere le cose il mio modo di vedere il denaro che è il denaro che è un tema per quanto riguarda poi il nostro paese molto strano si parla troppo poco si parla poco perché tutti hanno quasi come se fosse un tabù il denaro o quando se ne parla poi l'opinione pubblica risponde sempre in modo un po' diverso io spero che che cambi questa cosa perché li raccontiamo non volevo raccontare la storia di Satispey e basta che sembrava di raccontare già una storia di successo e è troppo presto ok non voglio attirarmi sì 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 no no ha già raccontato la loro grande storia di successo e poi non è andata com'è com'è sperato però ho visto nell'input dell'editore che mi ha detto ma avete fatto un qualcosa che ora è nelle cose nel pezzo del e scrivete un pezzo della storia del denaro mi ha riportato indietro a quel professore di economia la storia della moneta e ha detto cavolo quel punto della mia storia di formazione mi ha fatto cambiare strada da architettura a economia ed era la storia della moneta e ho creato una forma di moneta diversa poi alla fine allora ho cercato di elaborare su quello e mi sono ricordato tutta l'energia positiva che avevo nell'essere d'accordo con Dario il mio socio su come vediamo i soldi che sono solo uno strumento da spendere investire per creare cose è come l'energia potenziale in una diga ha senso quando la scateni e crei energia che stia ferma su un conto per noi non ha senso la ricchezza dell'economia si basa su quanto il denaro può circolare in modo efficiente e Satispay prova a fare questo rendere efficiente economico spostare il denaro ma in fondo è un po' anche il motivo per cui noi stiamo abbiamo questo livello di grande abizione vogliamo avere un successo enorme creare un'enorme ricchezza per noi i nostri investitori i nostri colleghi perché non vediamo l'ora di metterlo a disposizione di altri progetti di continuare a creare perché proprio la staticità del denaro è un qualcosa che ci ci dà fastidio è un qualcosa che crediamo ti renda schiavo è un po' un concetto che provo a esprimere quanto avere il denaro ti dà un senso di libertà perché ti dà il potere di fare le cose essere libero di decidere cosa fare ma nel momento in cui il tuo obiettivo è avere quel denaro o non perderlo non rischiare di averne di meno allora a quel punto sei schiavo e credo che il fatto di buttarsi fare la propria azienda viverla nel modo giusto e continuare a creare ricchezza sia legata a questo concetto e noi lo vediamo tanto negli Stati Uniti abbiamo investitori americani e siamo lì abbastanza spesso e devo dire che senti sempre una boccata di aria fresca uno perché l'imprenditore ha adorato come chi crea posti di lavoro innovazione e aiuta il proprio paese e due non c'è niente di male ad avere successo forse qua vado un po' sul troppo filosofico religioso ma credo che sia un po' figlio della scuola cattolica rispetto a quella luterana e noi siamo uno dei paesi cattolici per eccellenza dove c'è il sacrificio terreno per poi dopo starai ripagato mentre nella filosofia luterana poi dei paesi anglosassoni che possiamo vedere dall'Olanda all'Inghilterra agli Stati Uniti non c'è niente di male per le persone di buona volontà ad avere successo già nella vita terrena e questo è un qualcosa che spero passi anche in Italia perché troppe poche c'è troppo poco entusiasmo a livello generale diffuso per storie di successo c'è sempre un po' il tentativo di capire cosa c'era dietro tendenzialmente però tante volte questo a me sembra sempre un un processo mentale che fa l'altra persona quasi a giustificare se stessa cioè a me conviene pensare che dietro di te ci sia stato qualcuno che ti ha aiutato per forza perché da solo non puoi avercela fatta perché sicuramente qualcuno qualche giro qualche cosa è per giustificare il fatto che magari tu non ce l'hai fatta capito cioè è un insieme di cose senza capire invece che magari il successo di Satisfay o di altre realtà è un'opportunità per quelle magari le persone che state assumendo perché magari avete aperto la strada qualcun altro che fa qualcosa del genere cioè quello senza dubbio però ci sono anche un sacco di persone nel mezzo che per via di come sono state educate hanno un approccio diverso cioè io stampato in testa io facevo faccio quando riesco adesso tra Satisfay due bambini piccoli non faccio proprio niente però mi piace la barca a vela l'alpinismo la vela eccetera una volta ero ero in un porto e c'era un bambino che ha detto mamma guarda ma di chi è quella barca così grossa e la madre gli ha detto di qualcuno che non paga le tasse ah cioè no e dico ma cavolo poi magari è vero no però io ho avuto non so per quale motivo ma i miei mi hanno sempre cresciuto esaltando l'idea del successo degli altri quando io sento che qualcuno ha avuto successo cavolo mi esalto e voglio capire come ha fatto e lo trovo proprio benzina per me per il mio entusiasmo e io devo dire qualcosa che mi dà forza è leggere guardare ascoltare di storie di successo altrui e poi lo vedo torno al mondo del venture capital e mi faceva notare un collaboratore quanto è refreshing parlare con gli investitori americani perché in Europa in Italia passi il tempo quando parli agli investitori ad ascoltare tutti i motivi per cui non ce la farai come parli con gli americani passi il tempo a capire quanto grande potrà essere il tuo successo e quindi anche solo che sia così il contesto ti dà una forza un'energia un po' come quando ti si presenta un problema e invece di pensare a tutte le conseguenze negative pensi solo alle soluzioni quindi penso che ci sia una parte di educazione questo libro un po' provava a mettere dentro questi concetti su quanto ci può essere tanto di buono dietro alla ricchezza quanto la ricchezza di per sé usata nel modo giusto è un qualcosa a cui il paese deve ambire quanto le start up facciano bene a un paese perché di fatto sono progetti in cui ci si butta sapendo che probabilmente fallirai ma crei competenze sempre con una grande ambizione di potercela fare e quindi se si raccontano un po' di storie così secondo me è il modo migliore per girare questo paese al contrario funziona funziona assolutamente infatti sono mega contento di conoscerti oggi tra l'altro in questo momento anche un po' della mia vita in cui tutto il mondo è imprenditoria cioè mi sto interessando a tante cose che per tanti anni non mi sono interessate ma le ho sempre fatte senza accorgermi nel senso che è sempre stata una mia attitudine su alcune cose una delle cose che mi dicono e che prendo come un complimento fino a un certo punto ovviamente quando mi dicono che penso molto da americano su alcune robe anche sull'intertenimento eccetera non sulle armi e sulle pistole in specifico che quello è un altro è un altro tema però la cosa che mi mi colpisce appunto di questo libro ne sto leggendo un altro in questo periodo che magari sicuramente l'avrai letto ne saprai che si chiama da 0 a 1 che è il libro del cofondatore di Paypal che diceva proprio una cosa molto simile a quella che tu dicevi prima tu sull'uso della tecnologia sulle divisioni di start up sul concetto appunto di cambiare delle cose per fare poi effettivamente la differenza hai detto così perché è un libro che hai letto anche tu nel senso questo libro ispirerà delle persone quello che ti ho detto ne ha ispirate altre quali sono i libri delle letture ti è servito leggere storie di altri e quali sono quelle che ti hanno appassionato di più allora devo dire tutta la storia di Paypal letta da libri articoli podcast è molto intrigante perché Paypal era estremamente avanti pensate che loro in realtà volevano creare un sistema di mobile payment come Satispay ma non c'era ancora lo smartphone e quindi poi quei device che c'erano a suo tempo non erano all'altezza della situazione sono finiti a fare un'azienda incredibile che poi ha semplificato i pagamenti online però il fondatore di Paypal che ha scritto quel libro Peter Thiel poi ha fuso la sua azienda con Elon Musk che sappiamo benissimo chi è cosa ha fatto dopo con Tesla SpaceX adesso chat GBT e tutto il resto il loro la loro persona un po' più operativa che devo dire ha fatto gran parte delle cose chiave di Paypal era Reed Hoffman che poi ha fondato LinkedIn ok e ha presentato così perché lo aveva visto e ci aveva visto del potenziale Mark Zuckerberg a Peter Thiel ed è stato poi lui il suo primo investitore e da lì poi potrei andare avanti un'ora il team originale di Paypal ha poi è stato definito la Paypal mafia la Paypal mafia è un termine in realtà estremamente positivo perché a un certo punto gran parte delle grandi aziende tecnologiche più potenti al mondo avevano in qualche modo a che fare con il team originale di Paypal e noi andiamo a creare la Satisfay mafia in Europa che mi sembra tanta roba creare un qualcosa di enorme successo e tra noi i nostri collaboratori e i nostri investitori diciamo dare poi quella spinta ulteriore più grande di Satisfay che moltiplichi con competenze investimenti la potenza delle startup europee chiaramente con la sezione positiva cioè quello che fate i collegamenti le persone che conoscete possono scatenare tanti semini che poi diventano delle cose grandi ma poi il fatto di noi ci stiamo passando ne stiamo imparando un sacco stiamo sbagliando un sacco e quindi se posso avere gli strumenti per investire in un'altra startup posso sicuramente dare dei consigli presentare delle persone essere molto vicino a chi sta affrontando un percorso vicino al mio simile al mio in Italia per ora sono mancati investitori tecnologici abbiamo un sacco di angeli che investono ma che arrivano dall'industria da altro e che ci possono aiutare ma fino a un certo punto e quindi il fatto che loro hanno creato Paypal hanno risolto un sacco di problemi hanno trovato un sacco di soluzioni su come scalare online dei business ha fatto sì che dessero poi non solo denaro ma consigli e poi si è alimentato il tutto creando una parte della Silicon Valley e altri libri la biografia di Steve Jobs è stato bello a leggerlo proprio nei mesi in cui fondavo Satispay e dovevamo pensare al prodotto e leggere la sua cura di tutto da quando suo padre gli insegnava prendersi cura anche delle cose che non si vedono quando crei un mobile quando monti su una staccionata e poi pensate alla bellezza dei prodotti Apple anche quando li apri e poi da lì la qualità finale e devo dire che ci ha dato un'ossessione per il design e l'usabilità del prodotto che ci ha fatto bene e poi seguo tanti podcast soprattutto seguo un po' tutto quello che fa Rid Hoffman il fondatore di LinkedIn perché poi nel suo Master of Scales diciamo racconta e esalta sempre le storie di successo o le storie travagliate di start-up però il suo obiettivo è divulgare conoscenza per creare sempre più start-up di successo che è una figata a proposito di start-up di storie travagliate un altro contenuto di intrattenimento che ho visto nel recente e che pur essendo non una storia letto fine però mi ha fatto venire voglia di fare impresa la storia di WeWork l'hai visto il documentario scusami la serie tv su Apple non l'ho vista però avevo veramente seguito tutto la serie si chiama We Crashed e da parte che è interpretata da degli attori incredibili da Jared Leto da Nathaway ed è una storia incredibile appunto di una start-up che è diventata poi gigante ma talmente gigante che a un certo punto è successo qualcosa We Crashed proprio perché poi è implosa avevi letto tanto di questa storia ma poi dall'usare i loro uffici nella nostra base di Londra poi qua a Milano poi cioè devo dire We Crashed scusami per chi non lo sapesse per avere riferimento è appunto racconta la storia di questa start-up che parte dall'idea di creare degli spazi di co-working e poi da quegli spazi partito da uno era proprio creare una sorta di mondo intorno e mi impressionava come il fondatore volesse cambiare il mondo con questa cosa qui ma infatti poi secondo me è stato anche molto spinto da investitori estremamente aggressivi non so se viene raccontato nel film che by the way avrei già visto ma ho due figli piccoli che non dormono quindi solo per quello ma è una storia che mi affascina è una storia che guardiamo perché poi noi abbiamo di recente fatto questo super aumento di capitale abbiamo questa super disponibilità per crescere e investire ma non vogliamo montarci la testa e secondo me lì a un certo punto è scattato qualcosa di esagerato proprio di esagerato la serie viene complificata penso che il concetto che gli è stato passato è i soldi non saranno mai un problema quasi a gonfiare il più possibile però di fondo io me lo ricordo il momento in cui sono entrato in un we work e tutto funzionava ed era tutto smart quando negli uffici condivisi era uno stress continuo nel deve avere un certo badge la password della wifi dai l'indicativo del tuo device e poi funziona solo su un device e lì si vedeva proprio un approccio con l'attenzione all'utente come certi prodotti tecnologici però sugli sugli spazi però si ti mette sicuramente un super entusiasmo ha tante ha tante lezioni da insegnare poi forse c'era stata anche cosa un po' poco etica mi pare che we work poi come brand fosse we del fondatore work della società quindi cose un po' furbe che gli hanno portato ad avere poi la possibilità di magari anche incazzare molto dalla società su diritti d'immagine eccetera e quindi spostare per esempio questo libro visto che ho dedicato del tempo a scriverlo che è tempo che poi l'ho fatto la notte e tutto ma tolgo a Satispei nessun introito è andato a me poi siccome Satispei non deve prendere gli introiti di questo libro vanno in beneficenza a una organizzazione che usa lo sport per aiutare i bambini di famiglia in difficoltà a non essere esclusi dalla società però il concetto è che se io inizio a usare e poi infatti non l'abbiamo mai neanche spinto più di tanto perché c'era questo tema che se io inizio a usare la visibilità che mi dà Satispei per scrivere un libro mio incassare io vado nella direzione sbagliata tantissimi ci chiedono posso darti x per cento della mia società poi mi aiuti e noi costantemente diciamo no perché il giorno in cui ho delle entrate rilevanti da qualcosa che non è Satispei inevitabilmente ciò mi distrae e quindi questo noi un po' cerchiamo di evitare è un paletto che non tutti si metterebbero quindi torniamo al punto di partenza Satispei è talmente grande è un progetto talmente ambizioso noi vogliamo essere lo strumento di pagamento più usato in Europa che ogni giorno ti fa fare i conti col fatto che se non dai il massimo non riesci a crearlo poi non vuol dire che noi non abbiamo raggiunto una solidità economica personale anzi quello devo dire poi sono stati proprio gli investitori americani anche e soprattutto all'ultimo round dire è importante noi vi diamo moltissime azioni a premio che anche se entrano tanti capitali voi mantenete la vostra partecipazione e dovete vendere un pochino da non dover mai pensare ai soldi cioè quindi voi dovete avere abbastanza liquidità che non vi preoccupate dei vostri figli del mutuo eccetera eccetera poi anche il modo in cui quella liquidità viene utilizzata ci siamo veramente confrontati molto io e Dario abbiamo creato un portafoglio di investimento molto diversificato di lunghissimo periodo che ci forza a lasciare quei capitali lì dentro e dimenticarli ok perché nel momento in cui invece dicessimo abbiamo questa somma iniziamo a giocarci poi dopo la guardi ogni giorno come vanno i mercati e di nuovo attenzione che non metti su satispaio l'unica cosa che facciamo una parte la dedichiamo insieme anche a dei colleghi a investimenti in start up con l'obiettivo di dedicare qualche ora al mese perché pensiamo che vedere altre start up oltre a poter iniziare a fare un po' il percorso che ti dicevo di creare la Satispaio Mafia pensiamo che sia di stimolo a noi ok cioè ti fa venire altre idee per Satispaio ti crea delle provocazioni ti crea dei ti porta alla luce opportunità di mercato e poi se l'azienda è una realtà che può avere a fare con il business di Satispaio non investiamo personalmente e magari investe Satispaio stessa ok però per dire di nuovo gli americani mettono ti mettono sulla strada di è importante sono dieci anni che lo fai è importante che tu ti togli ogni stress legato alla tua situazione finanziaria in modo che tu possa essere concentrato e poi la cosa verissima che mi ha detto in realtà un italiano che ha avuto un super successo che è Riccardo Zacconi che era CEO di King.com Candy Crush che hanno venduto 5 miliardi e 9 e due anni fa mi diceva ma com'è che tu cioè che voi non avete mai venduto delle azioni che non non ha senso perché poi se siete in difficoltà e qualcuno vi offre di comprarvi Satisfay per un importo non alto non capisci cioè vendere delle azioni vuol dire a quel punto guadagnarci dei soldi tu che hai fondato è che a un certo punto alla valutazione di un miliardo di euro non solo hanno investito ma hanno anche qualcuno venduto qualche azione alcune banche che avevano investito all'inizio sono uscite abbiamo dato la possibilità a tutti i colleghi di vendere parte delle loro stock option perché se lavori in Satisfay diventi socio dal sesto mese ti diamo azioni quindi a quel punto ti entra della liquidità vera sì sì c'è chi si è comprato casa c'è chi ha chiuso i mutui dei genitori abbiamo invertito sì è vero l'effetto generazionale dove se i genitori non ti aiutano tu non ti compri casa noi sono strafiero che la gente ha invece aiutato i genitori beh che figata ok però appunto e lui vi chiedeva questo vi diceva perché se tu non non ti crei una solidità economica va a finire che se qualcuno ti offre una cifra non degna per Satisfay magari sei tentato comunque di vendere perché se ogni mese sei preoccupato sei tirato e fare aziende e fare start up vuol dire fare un sacco di sacrifici dopo un po' sei stanco e dici ma sai cos'è io lascio stare per questo gli investitori americani non vogliono che i loro founder quando arrivano a certe dimensioni siano stressati dalla componente economica perché quando tu non passi da cioè non sei tirato economicamente ma stai bene l'unica cosa che vuoi fare è creare di quell'asset è stata la cosa più grande possibile un valore sempre più grande e quindi si allineati a fare di quell'azienda la cosa di massimo successo perché non diventa ah se la vendo allora non ho più problemi a pagarmi la casa togliermi qualche asfizio eccetera ma diventa benissimo la componente economica non è più stressante per me quindi adesso di questa cosa facciamola il più grande possibile ma nel tuo caso e anche in generale questo non si racconta non vi dico quanti ah ma scusa ma quindi un altro round ma quindi non farai mai una exit ma quindi cioè come farai quando avrai del denaro nel pensiero generale c'è che a un certo punto appena arrivi all'apice o in qualche modo devi lasciare quando puoi vendi così poi sei a posto sei sistemato per tutta la vita però chi sono le persone più ricche del mondo non hanno venduto Jobs non aveva venduto Zuckerberg non ha venduto Bill Gates è ancora è lì cioè chi crea delle cose grandissime e ne rimane ma poi credo adesso credo che oltre a quello ci sia il fatto che questa roba l'hai creata tu in qualche modo ci sia adesso non credo hai dei figli quindi sai cosa vuol dire avere dei figli però diventa una roba quasi quasi genitoriale diciamo che sottostimi il tempo necessario diciamo che abbiamo sovrastimato quello che avremmo potuto fare in dieci anni cioè noi siamo molto indietro rispetto a dove avremmo pensato di essere però poi essendo adesso a bordo mi rendo conto che all'inizio pensavamo che sarebbe stato più facile ma abbiamo sottostimato quello che possiamo creare in vent'anni cioè Satispay è molto più grande di quello che inizialmente pensavamo siamo più indietro perché abbiamo tre milioni e mezzo di clienti avremmo pensato io tra dieci anni avremmo quindici milioni di clienti però adesso abbiamo contezza di quanto è cavolo è grande muovere i pagamenti di un paese o di un continente e questo ti tiene a bordo questa è la cosa che non ti fa mollare perché e poi sei sempre più cioè noi a dieci anni siamo più consapevoli circondati da collaboratori più bravi e abbiamo molte più risorse per realizzare quell'idea là quindi è come se fosse tutto rifresciato cioè dieci anni dopo reset però sei già avanti hai milioni di clienti hai tutti i soldi che pensavi necessari anche di più per realizzare il tuo progetto e quando arrivi a un punto così l'ultima cosa che vuoi fare è mollare e quando avete iniziato quanta gente vi ha detto ma che cosa state facendo smetti la boh non lo so ma sai che non me li ricordo perché a me è sembrato che ci fosse solo un grandissimo entusiasmo fin da subito sì ma a te è sembrato perché eri focus sulla vostra missione ma secondo me perché c'è proprio voglia di vedere storie di successo in Italia cioè è vero tutto quel discorso generalizzato però poi quando quando la gente in Italia vede un qualcuno che conosce che sa che non c'è niente dietro che sa che non è figlio di che si butta e che ha un progetto così ambizioso si esalta e noi devo dire abbiamo a un certo punto erano passati tre o quattro mesi un investitore che era un manager che avevamo conosciuto e lui era stato tipo numero due di Nokia Mondo capo del marketing ci aveva chiesto ma cercate anche Angel Investor quindi io ho googolato e ho detto oh Dario questo ci vuole dare dei soldi allora lui ci aveva dato 50.000 euro e abbiamo detto ma sì invece facciamo una cosa invece di prendere soldi da un venture capital adesso noi avevamo messo 60.000 euro a testa chiediamo ai nostri amici se vogliono investire qualcosa abbiamo fatto un video con l'iPhone abbiamo mandato questo video a 60 persone in 52 hanno investito tipo crowdfunding sì non esisteva ancora il crowdfunding quindi l'abbiamo fatto via mail è stato tutto molto rudimentale però il fatto che abbiamo mandato 60 email in 52 hanno investito da 1.000 a 50.000 euro la cosa è vera secondo me c'è quel discorso dell'entusiasmo quando parti che vuole avere successo e poi quando ce l'hai finisci un po' cioè nel senso diciamo che in Italia appena sei ancora lì che sei lì che ci stai tutti yeah vai e poi quando però arrivi dove vuoi arrivare ma è che forse basta quel 10% di persone entusiaste sì no beh in quel momento forse 9 su 10 allora gli investitori 99 su 100 non hanno investito hanno detto di no cioè è solo che quelli quell'1% quel 10% è quello che a me rimane attaccato quello che ti spinge davvero però sì io mi ricordo c'è tanta gente ha un po' l'atteggiamento ah c'è Satispay inizia a girare mi ricordo noi abbiamo fatto un sacco di di test a Cuneo dove adesso una persona su due paga con Satispay 22 volte al mese in medio cioè è lo strumento più usato 10 volte più usato di carte in quella città c'era molto c'era molto lo spirito di di giovani soprattutto che neanche la provavano perché figurati se un'app può essere una soluzione veramente figa un'app fatta da un conterraneo cioè io uso whatsapp facebook che sono fatte in silicon valley non uso la roba fatta da da un qualcuno che è nella mia realtà però devo dire forse mi rimane attaccato più la parte positiva se ci penso in tanti anzi ci sono degli investitori che a un certo punto si erano premurati di scrivere un documento di 15 pagine per spiegarci tutti i motivi per cui non avevano investito noi non potevamo avere successo non l'abbiamo mai letto quel documento che sono affano so solo che loro non avevano investito in un aumento di capitale che noi prezzavamo 12 milioni hanno fatto veramente a botte per poter investire 100 milioni di valore anni dopo beh quella è una bella soddisfazione ma quel documento non l'avevamo mai letto però appunto probabilmente ci avrebbe fatto male leggerlo perché non era un feedback veramente di valore era più gente un po' avversa al rischio che si era fatta la lista delle scuse interne per non partecipare a questo investimento quanti siete adesso a lavorare? quante persone lavorate? penso 380 dico così perché so solo che la settimana scorsa ho fatto il bootcamp dove prendiamo tutti quelli assunti in quel mese lì e facciamo due giorni dove raccontiamo la vision la strategia perché una volta prendevo un attimo mezz'ora un'ora con tutti quelli che arrivavano invece adesso ed erano 54 gli ingressi di gennaio e saranno 55 quelli di febbraio adesso siete già nel building nuovo so che dovete fare il building nuovo sarà pronto a giugno però stiamo assumendo circa due persone al giorno per questo ti ho detto penso 380 ma magari sono 400 mentre siamo qui adesso una persona è stata assunta esatto seguite così ma prendo l'email e dopo guardiamo e vedrete job offer job offer job description ral tutti i dettagli questa è una figata però prima di iniziare stavamo parlando un po' e mi ha fatto impressione perché stavi raccontando dei feedback interni cioè di questo modo per cercare anche voi di migliorare basandovi su feedback anonimi che arrivano dall'azienda cioè cos'è che è? allora a un certo punto quando passi le 100 persone è importante comunicare 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 e ricevere comunicazione perché non sei più il gruppo di che ti sembra amici una famiglia dove tutti si parlano quindi abbiamo impostato dei questionari dove la gente in modo anonimo dà dei feedback sulla propria divisione proprio responsabile come si lavora se si lavora in modo qualitativo eccetera eccetera così riesci a avere un po' una temperatura di come vanno le cose di dove ci sono delle aree di emergenza magari considerate che da noi dei neolaurati che lavorano magari da tre anni con noi hanno 25 persone sotto dopo e quindi magari qualcuno ci riesce magari qualcuno un po' meno e grazie a questi questionari riesci a capire che magari non è una persona empatica allora poi gli diamo del coaching li aiutiamo a migliorare e poi c'è la cosa totale definitiva che proprio domande libere anonime che ogni mese possono fare e poi noi ci prendiamo tempo per rispondere live tutta l'azienda collegata diamo un po' un update su come va il business su progetti speciali su quante persone sono entrate poi si passa al Q&A e quindi prendo tutte le domande e rispondo è quello ed è un modo ideale per trasmettere la cultura perché siccome non tutti hanno tutte le nostre informazioni non tutti sanno perché stiamo facendo una cosa perché la facciamo in un certo modo perché non la facciamo in un altro e di solito sono le chiacchiere da caffè dove si lamenta ma non capisco perché continuano a assumere così tanto e poi non capisco perché non facciamo un prodotto per l'azienda di questo tipo porta le domande davanti a tutti così non ti devi neanche preoccupare di cosa non hai raccontato di cosa non hai trasmesso perché ti arriva la domanda e noi rispondiamo assolutamente a tutto perché mette un po' in silenzio qualunque la mente è la sterile o distribuisce con sapevolezza cioè non bisogna farsi prendere dal nervoso cioè a volte delle domande arrivano ma semplicemente perché non tutti hanno a disposizione tutte le informazioni che abbiamo noi tra l'altro mentre parli mi vengono in mente mille cose da chiederti cioè ad esempio prima di parlare un'altra puntata doveva farne un'altra perché in realtà poi hai parlato tanto anche di sport e alcuni sono comuni insomma come passioni e io mi rendo conto anche nella mia vita quanto lo sport sia importante per fare il resto cioè io non sono un atleta professionista però cerco di trasportare quelle cose anche in tutte le altre cose che faccio quanto è stato importante e quanto è tuttora importante quanto conta lo sport nella tua vita l'ho notato in tantissime persone che fanno il tuo lavoro ho avuto la fortuna di avere dei bellissimi anni come pallonuotista e come capitano della squadra e quindi quel ruolo di gestire è uno sport faticoso abbastanza violento dove ci si può un po' far trascinare e far andare male a una partita solo perché sei innervosito psicologicamente dall'avversario che ti sta addosso tutto e quello mi ha aiutato la vela tantissimo perché non c'è capitano peggiore di quello che nel momento di burrasca e di difficoltà alza la voce perché vanno tutti in panico e io mi sono sempre divertito portare in barca amici che non c'erano mai andati a fargli appassionare tantissimi amici che hanno la patente nautica perché sono venuti in barca con me si sono divertiti e hanno e hanno preso anche loro la patente nautica e poi l'alpinismo lo sci lo snowboard l'arrampicata secondo me è un po' tutti quelli lo sport di squadra chiaramente mi ha dato costanza ed è quello per cui mi sono allenato di più la palla nuoto il confronto con la natura che la vela e l'alpinismo ti possono dare è un po' quella sapere che affronti qualcosa di molto più grande molto più forte di te che può farti sparire da un momento all'altro che ti ti fa porre nel modo giusto con l'umiltà giusta e un po' il senso di avventura con cui ho affrontato fondare un'azienda e c'è proprio anche gestire una squadra come quando cioè io proprio dico contento che sei salito a bordo penso che mi sia rimasto un po' questa cosa quel retaggio fai mettere le scarpe da barca prima di entrare in azienda perché sennò rigano il tech però adesso poi cerco di ritagliarmelo proprio come sfogo fisico perché poi sono tutti lavori psicologici infatti cerco di fare sport o di cucinare cioè tutte quelle cose e c'è pure due figli quindi sei tranne il grande dopo domani e otto mesi il piccolo e non stiamo dormendo niente ecco non ti dico io fortunatamente le mie dormono che è la vera grande salvezza no il piccolo ha sempre fame ok quello è un po' però tra l'altro il figlio usa Satispay per prendere il latte perché comunque anche in casa diciamo che il Amedeo che è il più grande sa bene cioè vuole pagare lui quindi schiacciare vuole schiacciare lui il tasto soprattutto ci sono state cose simpatiche l'anno scorso tipo il tram di papà per il San Milano magari c'è il tram con la pubblicità Satispay o cose così bello beh sì deve essere quello bello un'altra cosa bella che ho letto è che hai incontrato Mark Zuckerberg sì è stato parecchio tempo fa però sì era venuto penso cos'era la Louis a Roma e aveva selezionato qualche start up music smash noi aveva fatto un incontro a porte chiuse tra poche persone eravamo una decina di persone e era stato era stato interessante è stato bello che poi la foto che girava era quella dove io ero di fianco a lui sembrava che fosse venuto apposta per me però ero rimasto abbastanza impressionato dalla dalla lucidità dalla concentrazione e dal fatto che fosse solo discursivamente interessato a capire nuove idee e opportunità per le proprie aziende cioè è freddo uomo di business freddissimo sì è anche un po' rigido però era costantemente in cerca di idee opportunità per rendere le proprie piattaforme più grandi quindi anche parlando con voi lo faceva cercando di capire se quello che facevate voi poteva essere utile per lui sì sì idee da developer lui li chiama developer in generale per lui poi è un developer però diciamo aveva voglia di parlare con i developer aveva voglia di parlare con gli start-upper per avere feedback su come migliorare facebook e per ascoltare poi alcune cose gli passano un po' sopra la testa nel senso che magari non erano temi di di suo interesse però mi ricordo parlando di pagamenti parlando di fluidità nel check-out lui era veramente estremamente attento e concentrato e anche se dissimulava un po' come dire sì mi interessa quello che stai facendo non riusciva a dissimulare troppo cioè lui non è super empatico lui è molto quadrato e si vedeva che la sua mission era una rendere le piattaforme di meta sempre più grandi e sempre più potenti non si sa mai che domani vedi che sull'app di instagram c'è la possibilità di pagare beh è diventato un e-commerce cioè puoi acquistare però in realtà non è molto difficile uscire dal tuo seminato quando fai aziende che fanno miliardi di utili ogni mese da un core business difficile far n'altro voi pensate a cosa ha lanciato facebook di successo direte facebook instagram no instagram l'ha acquisita certo cioè è molto difficile con questa velocità tecnologica che le aziende riescano ai giganti a lanciare n progetti di successo da zero tendenzialmente sei bravo in una cosa beh lui però è famoso per aver visto delle cose da delle altre app forse averle provate a comprare e non esserci riuscito deve essersele un po' portate inventate inventate no ma ricordate sul suo stories di instagram non è che snapchat sia poi crollata e poi cresciuta ancora di più secondo me beh qua non è mai decollata per questo motivo qui nel senso che nel momento in cui in italia poi in america funziona ancora un casino un casino non lo so però ha funzionato tanto per tanto tempo io ricordo andavo in giro a new york nel 2011 vedevo proprio i cartelloni di quelli famosi su snapchat eccetera però secondo me snapchat ha smesso di innovare più che però sono bravi a fare i filtri devo dire che i filtri migliori arrivano da snapchat cioè secondo me si sono un po' fermati lì ok cioè poi è arrivato a tiktok che è andata più veloce sono arrivate altre cose se non altro lui non si è mai sentito che instagram fosse abbastanza e nel suo verticale ha continuato a fare difficile che ti butti nel settore finanziario con successo infatti anche solo il loro progetto di valuta digitale poi è saltato e come a un certo punto ce lo saremmo dimenticati quasi tutti ma avevano lanciato un telefono un sistema operativo e poi quindi è molto difficile quando è un'azienda che va così forte su un verticale e me ne rendo conto io adesso che siamo infinitamente più piccoli l'unica cosa che vogliamo fare è diventare sempre più bravi a gestire i pagamenti ok e quando mi dicono ma perché non lanci anche le assicurazioni perché non lanci il trading di bitcoin e tutto io penso a quanto ci sentiamo indietro sulla cosa core che facciamo che è gestire i pagamenti è meglio diventare il più bravo in assoluto su quello perché poi quando disperdi un po' le tue energie su più fronti rischi che arrivi qualcun altro sul tuo verticale chi è il più grande secondo te chi è il migliore che ha fatto nella storia magari non dico chi ha inventato però zuckerberg musk bezos non lo so in questo mondo di tecnologia eccetera chi è ma io essendo più lato marketing design resto sempre affascinato tantissimo da jobs ok Steve Jobs è la sua capacità di creare prodotti unici emozionanti che hanno cambiato il mercato al di là di apple della sua valutazione pensate a quante cose esistono compresa Satispay perché è stato creato l'iphone ok certo hanno creato un linguaggio cioè un mondo ed era un po' questa visione che non derivava dall'andare a chiedere alla gente cosa voleva perché se ti avessero chiesto vuoi un telefono senza tasti tutto di vetro magari avremmo detto tutti di no invece lui l'aveva vista e poi sono affascinato da queste persone come Reed Hoffman che prima di fondare LinkedIn è quello che aveva gestito la guerra tra Paypal per cui lavorava e Ebay era riuscito poi alla fine del suo nemico farne l'acquirente e vendere a Ebay dopo che si erano quotati e poi ha presentato Zark e Bergatiel e poi ha fondato LinkedIn ed è lì che investe e continua a creare altro quindi è un po' lui secondo me è il meccanismo che ho lì è la Silicon Valley e fa sì che tutto continui a rimanere cioè che quel contesto continui a rimanere il più il più efficace nel lanciare storie di successo un'ultima cosa prima abbiamo parlato insomma del fatto che voi state facendo questa cosa in Italia che quindi ha delle regole del gioco diverso rispetto ad altri paesi in che cosa e anche per chi vuol fare imprese o chi vuol ha la sua start up eccetera in che cosa l'Italia credo che nella vostra idea ci sia quella di restare in Italia nel senso non lo so però mi sembra che sia un grande orgoglio per voi il fatto di essere italiani e di aver fatto questa cosa in Italia e in che cosa l'Italia è un problema o meglio mette i bastoni tra le ruote e in che cosa invece magari può essere di aiuto allora l'Italia è un problema per la normativa sul lavoro in parte ma soprattutto sulla raccolta di capitali cioè sono troppe le eccezioni che devi fare e ci metti troppo tempo a passare da quando un investitore ti dà un term sheet quindi una offerta non vincolante di investimento a chiudere l'operazione perché semplicemente abbiamo una normativa che non guarda al mercato e quindi è molto complicato fare aumenti di capitale ci sono diritti di recesso è super tutelato l'investitore di minoranza che poi alla fine sono tutele che aiutano solo i furbetti che vogliono creare problemi però è tutto gestibile cioè secondo me capisci il consiglio è cerca di capire le opportunità che ci sono in Italia capire e interpretare bene la legge italiana perché poi diventa anche è uno dei mercati più grandi al mondo ma non è il primo in cui si lanciano gli altri grandi giganti quindi hai un po' più di tempo per creare il campione locale ok proprio perché magari non è il contesto più facile è il contesto ideale hai un po' di tempo per sviluppare le cose qua e poi soprattutto quell'entusiasmo di cui parlavo cioè quegli angeli di cui parlavo in Italia c'è molta competenza e ci sono molte persone che si rendono disponibili a dare una mano bisogna essere molto freddi e lucidi a capire se sono in grado di darci una mano o meno e non subito dare quote di qua e di là ma mettere alla prova chi ci può dare una mano chi ci può supportare però sì è un paese dove si dice troppo spesso che il piccolo è bello e noi ci siamo resi conto che ogni volta che crei qualcosa che sta per diventare grande le norme italiane gli stanno strette anche raccogliere capitali a valutazioni sempre più alte è complicato e si vede che tutto è un po' disegnato per il piccolo però io non credo che il piccolo sia così bello perché poi sono le aziende piccole quelle che nei momenti di difficoltà falliscono le aziende familiari che hanno come nome dell'azienda il cognome del fondatore hanno la dimensione massima della loro azienda secondo me dobbiamo diventare un paese capace di comprendere che le grandi cose si fanno attirando investitori terzi creando cose più grandi di se stesso e se creiamo cose grandi magari finiremo a usare sempre più prodotti italiani attirare gente qua assumere gente qua non è banale attirare capitali assumere persone qua però però si può fare voi lo state facendo Alberto ti ringrazio un casino per questa chiacchierata grazie a voi mi hai fatto andare abbraccio ma no la figata è questa perché sono devo dire ci siamo capiti e intesi ci è stato il frusso giusto no ma sono certo che becchiamo anche tanta gente che ha bisogno a volte di parole come quelle che hai raccontato tu anche solo per avere una visione diversa però veramente l'Italia è piena è piena di potenziali limiti e problemi ma siete italiani quindi li conoscete ci sapete navigare dentro e avete un vantaggio per fare cose grandi che partono da qua e possono avere successo qua poi non è come con la macchina cioè se tu riesci a guidare in alcune città italiane puoi guidare in tutto il mondo mi hanno detto quindi magari un po' forse sarà per quello che i grandi CEO delle grandi aziende mondiali sono indiani perché hanno imparato a guidare nelle loro città contesti abbastanza difficili grazie davvero sono anche contento grazie a voi chiunque utilizzerà l'app di Satispe adesso oltre a cliccare saprà anche che cosa c'è che cosa c'è dietro ed è una storia molto interessante bocca al lupo per tutto ci becchiamo a presto